Ho un genitore, anche volendo, e se mai vengo da te, lo riporti nel tavolo dei materiali. Il laboratorio si intitola Costellazioni Mobili pensando a Miró, perché abbiamo pensato di prendere spunto da Miró, che era un artista catalano, e di ispirarci a dei dipinti che ha creato negli anni Quaranta, che ha chiamato Costellazioni. E quindi abbiamo creato delle forme attaccate a dei fili metallici e una crocetta di legno, che sono forme di Miró, in un certo senso, solo con i legami, solo con gli intrecci, facendo una scultura tridimensionale, in sostanza. Ecco perché i laboratori sono tutta una Costellazione Mobili. Positivo, positivo, sì, sì, veramente orde di genitori e famiglie che vengono a lavorare, ma perché c'è voglia di attività creativa, pratica. È rosso. Sì, è rosso. Non ti fidavi? Ah, hai voluto vedere. Puoi prenderlo, ovviamente. Poi condividilo. Vado un attimo a vedere se ci sono altri materiali e prendere degli altri rassoi. Vado un attimo a vedere. Vivi. Vado un attimo a vedere. Vivi. Grazie per la visione!